Diverse squadre sono al lavoro per la conta dei danni a Buccia. La cittadina alle porte di Chieve è travolta nel febbraio scorso dall'avanzata delle truppe russe. In base agli ultimi calcoli in mano all'amministrazione comunale sono 179 gli edifici completamente distrutti, 24 quelli danneggiati per il 75% e 1320 gli edifici con danni minori. A riportarlo è il vice sindaco Sergi Shepetko. Il nostro principale problema ora è la ricostruzione, perché ci sono grossi problemi nel ricevere finanziamenti dal governo. Come sappiamo, finché l'Ucraina sarà impegnata nella guerra, quasi tutte le risorse del governo andranno alle forze armate. Secondo i nostri calcoli, per ricostruire la città serviranno 500 milioni di euro. La città di Buccia è stata occupata da circa 4.000 soldati di Mosca. Gli scontri hanno avuto luogo per le vie del centro con i civili. Ad oggi risulta che 480 fra questi ultimi hanno perso la vita nell'area. Per tre o quattro giorni gli occupanti russi non permettevano alla gente di portare via i corpi dalle strade. Forse era il quinto giorno dell'occupazione. A quel punto ci hanno autorizzato a prendere i cadaveri dei civili, ma solo quelli nel centro della città. Non ci hanno però permesso di portarli al cimitero. Per questo abbiamo dovuto organizzare le fosse comuni vicino alla chiesa. Secondo le stime della Municipalità di Buccia, 45.000 abitanti hanno lasciato la città sfruttando i corridoi umanitari durante l'occupazione russa. In 3.000 hanno deciso di rimanere nascosti negli scantinati, come quello dell'ospedale. Attualmente sono tornate a Buccia tra le 9.000 e le 12.000 persone. Molte persone hanno paura a tornare perché temono altre ondate, altre invasioni. La vita però torna lentamente alla normalità. I servizi di base sono stati ripristinati, ma molte attività sono state distrutte e in tanti non hanno più un lavoro. Adesso abbiamo riattivato i servizi più critici, gas, elettricità, acqua. Però non siamo pronti ad aprire tutte le scuole e gli asili. Perché una gran parte del personale non è ancora rientrato? Lo stesso vale per la biblioteca, il museo, il centro culturale. La gente si ha paura a tornare. Nella piazza centrale della cittadina ucraina tornano a giocare i bambini delle famiglie rientrate e di quelle che sono rimaste. Scene di ilarità con cui si cerca di dimenticare l'orrore dei cadaveri abbandonati per strada tra le macerie e i veicoli bruciati. Ora possono ricevere l'aiuto necessario, il supporto psicologico, l'assistenza sociale. I bambini hanno bisogno di feste, di partecipare a eventi pubblici, ma allo stesso tempo siamo pronti per le sirene antiaereo e a portare tutti i bambini in un rifugio speciale nella scuola, sulla piazza. I nostri bambini, quando sentono gli allarmi, hanno paura di nuovi attacchi aerei. Non sarà facile dimenticare quello che è stato per la comunità di Buccia. Il vice sindaco è ancora incredulo nel ripensare alle aggressioni che i suoi concittadini inermi hanno dovuto subire. Uno ha bisogno di vivere quello che abbiamo vissuto per capire cosa abbiamo attraversato. Anche quando siamo tornati alla nostra vita normale, all'inizio era difficile uscire di casa. Avevamo ancora paura degli spari.